La cosa che a me piaceva tanto è avere un palco con un palco, cioè nel senso avere una specie di depressione centrale con intorno delle varie sezioni, camminamenti che permettono di andare sia dietro, intorno, dappertutto rispetto all'orchestra e anche in mezzo al pubblico, quindi creare due passerelle anche per entrare proprio dentro al pubblico. Ho visto la luce! Qui abbiamo il negozio dei vestiti usati, naturalmente questo e questo qua ci servirebbero anche per le luci, così siamo autosufficienti da qualsiasi punto di vista. Questo è il più importante per le luci americane. Capito? Invece di mettere le piantanasse, da che ci fanno cazzare che io non le sopporto, lì appendiamo tutte le pareti, i traiettori e l'ho chiesto sull'altra prima. Io non ho idea di quello che avete in mente voi, cioè il costruire una cosa di genere richiede del tempo e delle competenze e delle competenze. Allora lo appoggiamo sopra questo stecco lì, no? Allora è meglio proseguire con un morale, quindi proseguire la linea. Allora si, ecco. Allora si, ecco. E' bellissimo che fa di soffiare col compressore, no? Ma no! Quarto! questi sono tre centesimi i tre soldi trovati qui quando abbiamo svuotato queste stanze ecco grazie